È stata inaugurata ieri a Nuoro nel Museo Tribu la prima delle tre mostre dal titolo Galanias, i tesori dell'artigianato sardo, promosse dall'assessorato regionale dell'artigianato e turismo, oltre che nel capologo barbaricino a Cagliari e Alghero. Al vernissaggio sono intervenute le autorità civili e religiose della città. Gli onori di casa sono stati fatti dall'assessore regionale al turismo Luigi Crisponi. Insieme ai manufatti degli artisti e artigiani contemporanei che espongono ceramiche, gioielli, tessuti, coltelli a redi, ferribattuti e intagli, si possono anche ammirare alcune delle opere di Giuseppe Biasi, Francesco Ciusa, Mario Delittala, Salvatore Fancello, Eugenio Tavolara, Costantino Nivola e Maria Lai. Assessore Crisponi, una grande mostra per far vedere quanto l'artigianato sardo ha fatto, sa fare e potrà fare in futuro. L'artigianato è la nostra memoria e quindi l'occasione davvero ghiotta, quella di presentare oggi a Nuro ma domani a Cagliari per seguire mercoledì prossimo ad Alghero. Tre momenti molto importanti, oltre 150 bravissimi artigiani che raccontano se stessi la loro arte, la maestria, il rimando che hanno nella notte dei tempi e quindi raccontano una capacità espressiva fortissima che si aggiorna quotidianamente. Questo è anche il motivo per cui l'assessorato regionale dell'artigianato ha inteso proporre e organizzare questo tipo di mostra. E' un'occasione, come dice il titolo stesso, della galanias, quindi delle bellezze, della storia del nostro tesoro, delle nostre straordinarie ricchezze. Quindi dobbiamo assolutamente proporre questo tipo di attività ed accompagnare in un percorso così importante, così serio, nel lavoro dei nostri artigiani quotidianamente. Qui c'è la memoria, c'è quanto i sardi sanno fare, una cosa unica che può essere un volano per il turismo e per altre attività economiche. Vale per tutti il rimando che farei al 2012, anno in cui abbiamo citato un grande dell'artigianato che è stato Eugenio Tavolara, proprio in questa stessa sede del Tribù di Nuoro dove abbiamo celebrato i 110 anni della sua nascita. Quindi in questa occasione straordinaria mi piace ritornare a quei tempi e qui si celebra anche un altro grande della nostra città che è Giovanni Antonio Sulas. Quindi anche qui c'è un'importante testimonianza, un omaggio a un uomo che ha fatto un po' da tradunione fra quella che è stata l'arte pittorica e quella di un design spinto con un accompagnamento dei nostri artigiani a una ricerca, a delle forme che naturalmente hanno sempre dentro tanta identità, tanta volontà, tanto segno di appartenenza.